Vicesindaco, cosa si prevede per questo Natale nella città di Barletta? Secondo step e ci auguriamo essere l'ultimo, abbiamo annunciato il villaggio di Babonatale appena settimana scorsa, oggi andiamo a denunciare tutti quelli che sono gli eventi che si sono giudicati insomma, e che saranno snocciolati durante il periodo natalizio. E chiaramente noi siamo fiduciosi perché quest'anno il programma è abbastanza ricco e come aveva detto il sindaco abbiamo voluto anche tenere in stretta considerazione la periferia. Il problema delle luminari è superato, si è creato un problema iniziale perché il primo giudicatario ha distanza di qualche giorno rinunciato, fortunatamente il secondo giudicatario dopo 48 ore di riflessione ha accettato l'incarico e come vedete per le strade della città ha cominciato a montare le luminari. Noi siamo fiduciosi che tutto riesca entro l'Immacolata, ci siamo prefissati che avvenga tutto entro l'Immacolata. L'anno scorso voglio ricordare a tutti, le ultime luminari montate su Via d'Aragona erano in coincidenza del 13 di dicembre, quest'anno invece questa azienda si è presa a massimo fino al 10 di dicembre, ma ci ha garantito che entro l'Immacolata il 90% del territorio perché ci sono molte strade in più verranno coperte. Oltre agli eventi che voi troverete oggi in brochure che verranno presentati, ci sono molteplici eventi per i quali il Comune ha garantito l'occupazione di suolo pubblico gratuito e l'esenzione al pagamento del canone umico patrimoniale.